pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa ventinovesima domenica incontriamo il famosissimo testo del rendete a cesare quel che di cesare e a dio quel che è di dio potremo dire che l'unico pronunciamento specifico di gesù in ambito politico noi in questa riflessione cercheremo di cogliere alcuni spunti utili per vivere meglio nel mondo senza essere del mondo e in particolare vi propongo tre passaggi innanzitutto cercheremo di capire la portata della domanda che viene fatta gesù e il senso della sua risposta quindi ne vedremo qualche applicazione a livello pratico infine un ultimo passaggio sarà uno spunto a livello più profondo per la nostra interiorità andiamo al testo farisei ed erodiani vanno da gesù e cercano di coglierlo in fallo nei suoi discorsi e gli domandano è lecito o no pagare il tributo a cesare a noi con la sensibilità attuale sembrerebbe una domanda di poco conto della serie ma è giusto no pagare le tasse in realtà al tempo di gesù non era così scontato cerchiamo di capire meglio al tempo di gesù la palestina era occupata dai romani che avevano imposto le loro tasse sui beni immobili e sui beni personali la tassa di cui si parla oggi e avevano anche imposto la loro moneta su questa moneta era impressa l'immagine di cesare dell'imperatore che presentava se stesso come figlio di dio con tratti divini quindi non solo c'era il fastidio per l'occupante romano ma in più per gli ebrei osservanti questa moneta era causa di caduta nel peccato di idolatria dato che secondo l'interpretazione del primo comandamento non si poteva fare immagine alcuna da qui nasce il motivo della domanda che così e come posta prevede due risposte o è giusto dare il tributo a cesare o è sbagliato questa domanda di per sé parte però da premesse sbagliate perché perché loro stanno mischiando ciò che è il potere civile con ciò che è dio e appartiene al suo regno vedete tante volte anche nella nostra vita noi poniamo delle domande che non trovano risposta ma non perché non ci sia una risposta ma perché sono sbagliate le domande facciamo un esempio una persona soffre si ritrova ad affrontare tante prove e a un certo punto si incarta in un ragionamento tipo ma cosa ho fatto di male per meritare tutti questi castigli da parte di dio capite che una domanda così ha delle premesse distorte perché dietro c'è uno l'idea di un dio che castiga due l'idea che dio castiga con le sofferenze tre che dietro ogni sofferenza c'è qualche colpa da spurgare ecco questa domanda che viene posta a gesù parte la premesse sbagliate quindi così è come formulata non è esatta gesù con grande intelligenza elude la casistica davanti alla quale viene posto cioè non dice giusto o è sbagliato il trabocchetto infatti che gli era stato posto era che se gesù avesse detto che era giusto dare la moneta a cesare lo avrebbero screditato agli occhi del popolo facendolo passare per un collaborazionista degli occupanti idolatri se gesù avesse detto che era sbagliato dare il tributo avrebbero potuto denunciarlo ai romani come sobillatore gesù invece con la sua risposta ci porta su un altro piano e fa un distinguo semplice ragionevole si fa dare una moneta e domanda ai suoi interlocutori ditemi di chi è questa immagine impressa sulla moneta di cesare bene allora rendete a cesare ciò che è suo e a dio ciò che è suo che cosa è di cesare la moneta il tributo delle tasse che cosa è di dio che cosa rendere a dio siamo noi stessi il nostro cuore la nostra adorazione c'è la parola immagine che subito ci rimanda infatti al libro della genesi l'uomo creato è immagine e somiglianza di dio entriamo nel secondo punto e cerchiamo di cogliere qualche spunto a livello pratico gesù potremmo dire innanzitutto con la sua risposta riconosce anche una reale autonomia e consistenza al potere politico non ne contesta la legittimità né l'autorità dunque c'è un invito per ogni cristiano a rispettare l'autorità civile a vivere onestamente esemplarmente per provvedere al bene di tutti e anche ad impegnarsi nella società perché siano promosse leggi giuste ed eque dall'altra parte pone anche un limite al potere dello stato che non può estendersi fino ad assorbire totalmente l'uomo perciò se portasse avanti leggi contrarie alla vita al vero bene alla verità della persona umana i cristiani sono chiamati all'obiezione di coscienza e a dire il loro no è bene ricordare che i cristiani del primo secolo furono perseguitati dagli imperatori romani non perché fossero contro la struttura del governo o contro l'impero oppure perché non ottemperavano i loro doveri di buoni cittadini i cristiani erano perseguitati perché non riconoscevano all'imperatore una priorità divina cioè non lo riconoscevano come dio in terra dunque non offrivano i sacrifici all'imperatore erano dunque perseguitati per questo motivo perché non davano a cesare quel che invece è di dio facendo un passo in avanti potremmo dunque dire che questo testo da un lato proclama il dovere umano civile e morale di pagare le tasse collaborando alla vita politica e al bene comune della società potremmo dire insieme al cardinale ravasi che la sua è anche un'accusa contro l'allegra e continua evasione fiscale praticata anche da diversi cristiani di ogni ceto sociale specie benestanti pensate che qualcuno ha detto che l'evasione fiscale è lo sport più praticato da intere classi sociali di cittadini di che cosa spesso non ci si rende conto dietro a questo atteggiamento dell'egoismo latente che nasconde ecco spesso e volentieri si sentono ragionamenti tipo ma io non pago le tasse perché sono tutti ladri ci si nasconde dietro un'etichetta pioppata a tutti e ci si dimentica del danno che si infligge alla comunità ecco proviamo a fare alcuni esempi che prendo dal cardinale comastri se un ragazzo devasta un giardino pubblico o sfregia un'opera pubblica dai banchi di scuola alle opere artistiche oltre a una grande dose di ignoranza sta danneggiando tutta la comunità un adulto che bleffa sulle tasse sta rubando a tutta la comunità un lavoratore che non lavora pur prendendo regolarmente il suo stipendio sta rubando alla comunità un dirigente che attraverso vie non proprio legali arriva da caparrare compensi smodati ruba non solo alla società ma alla comunità per non parlare poi di chi peccando gravemente omette di pagare gli operai e versarne i contributi o di chi crea pericolosi mercati paralleli in nero o di chi instaurando la mentalità del favore arriva a gestire illegalmente assunzioni visite mediche graduatorie e via dicendo qualcuno potrebbe obiettare sì vabbè ma lo fanno tutti a parte il fatto che non è vero che lo fanno tutti ma tantomeno deve farlo un cristiano che come diceva don bosco è chiamato ad essere un buon cristiano ed un onesto cittadino attraverso il contributo alla struttura statale si esprime la solidarietà si tutelano i più deboli si incrementa l'assistenza sociale e si tenta una certa distribuzione dei beni quindi evadere il fisco è un peccato contro la carità è chiaro che dall'altro canto appare quanto sia grave e infame il peccato di furto nei confronti del denaro pubblico allegramente perpetrato da alcuni politici e funzionari pubblici appesantendo poi di tasse eccessive i ceti medio bassi quindi se da una parte c'è un dovere morale dei cittadini c'è un dovere morale anche da chi parte di chi al governo innanzitutto di non fregare nessuno e di non rubare e dall'altra di imporre anche delle giuste tasse di non mettere sulle spalle della povera gente dei pesi che non possono sopportare queste parole di gesù sono anche una denuncia da un altro canto contro tutte quelle tendenze spiritualistiche isolazionistiche intimistiche che invitano il cristiano a rinunciare a ogni impegno sociale considerando la politica e lo stato come degli strumenti del maligno come ad esempio sostengono i testimoni di geova no no si è chiamati a impegnarsi per il bene di tutti e anzi ad aiutare la società a lievitare nel bene grazie ai fermenti di bellezza suscitati dal vangelo e qui mi permetto di aprire un'altra parentesi pratica perché tante volte ecco la politica o è demonizzata o è idolatrata o è demonizzata tutte male tutte marce sono tutti corrotti e via dicendo oppure idolatrata soprattutto gli uomini che si fanno prendere di più dall'aspetto del dibattito del governo del potere a volte perdono il lume della ragione si schierano chi da una parte chi dall'altra discutono e litigano e alla fine esaltano il politico di turno che si propone come salvatore della patria dimenticando persino la propria appartenenza a dio cioè svendendo anche nei loro criteri e ragionamenti quelli che sono i criteri fondamentali di un cristiano come terzo passaggio in conclusione a livello un po più profondo ed esistenziale cosa possiamo dire cosa ci dice questo testo che a cesare è giusto donare le tasse ma la parte più vera profonda e nobile va data a dio a lui appartiene questo è molto bello perché dunque il problema serio e profondo è un problema di appartenenza cioè io a chi ho dato il mio cuore il punto serio è imparare a vivere nel mondo senza essere del mondo e restare di dio mentre siamo tra le cose che dio ci ha affidato questo è davvero profondamente liberante perché perché anche nelle situazioni più particolari anche nei contesti più difficili io posso mantenermi radicalmente libero perché perché il mio cuore è in cielo e in dio è unito a lui che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti